L'assessore regionale Alessandro Anicò ha firmato il decreto ed è stata pubblicata oggi nel sito della regione siciliana la graduatoria degli aventi diritto al bonus affitto per il 2022. Sono stati assegnati 17.953 contributi con un importo medio di 1.175 euro ciascuno per un totale di oltre 21 milioni di euro che erano stati a suo tempo stanziati per le famiglie siciliane che vivono in condizioni di maggiore fragilità economica garantendo così un sostegno alle spese di locazione. Una misura di dignità sociale ha dichiarato il presidente della regione Renato Schifani che rappresenta non solo un aiuto finanziario ma anche un segnale di attenzione e solidarietà verso chi è più vulnerabile. La dotazione finanziaria proveniente dal Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione del Ministero delle Infrastrutture è stata di 21 milioni e 400 mila euro. Risorse destinate ai titolari di un contratto di locazione per abitazioni pubbliche e privato di edilizia popolare nell'anno 2022 che avevano i requisiti per poter partecipare all'avviso tra questi un ISEE uguale o inferiore alla somma di due pensioni minima IMSS pari a 13.659 euro o uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sommenzionata pari a 15.639 euro. Per il 2024 intanto è scaduto il 13 settembre scorso il termine entro il quale doveva essere presentata l'istanza per accedere al bonus affitto destinato non solo ai cittadini italiani ma anche agli stranieri residenti in Sicilia nell'obiettivo di estendere l'aiuto a tutte le categorie vulnerabili senza distinzione di nazionalità purché con una regolare residenza nell'isola.